Se quella contro la Turris era una gara speciale per Carmine Gautieri, quella di Bari, non sarà da meno, il capologo pugliese non avrà regalato l'amore al tecnico partenopeo, ma si può definire una tappa importante della carriera del gaucho che per tre anni, ovvero dal 93 al 96, ha dato il suo contributo. Infatti al suo arrivo in bianco-rosso Gautieri ottene subito la promozione in Serie A, restando fino alla retrocessione in cadetteria tre anni dopo, passando successivamente al Perugia a scadenza di contratto. Ma con il Bari non finisce qui, perché nell'estate del 2013 viene chiamato dal direttore sportivo Angelozzi, stavolta in altre vesti, ovvero allenatore. Ma dopo il ritiro in Trentino, il 3 agosto al San Nicola Gautieri comunica la decisione di non proseguire la sua avventura in Puglia. Per sopraggiunti motivi personali, reciterà il comunicato, ma lo stesso tecnico ha ribadito come non ci fossero le condizioni per proseguire. Però se io vedo, come ho fatto anche in passato, l'ho fatto anche col Bari, dove sono partito il ritiro dopo 20 giorni, non c'erano le condizioni, ho detto arrivederci e grazie. Io sono fatto così, credo in quello che faccio, credo negli uomini, credo nelle persone e credo soprattutto nel lavoro. Domenica passerà quasi certamente in secondo piano, perché a Bari sarà festa, ma chissà se il gaucho riuscirà a togliersi una piccola soddisfazione personale, regalando una gioia anche al popolo erpino. Grazie.